Ben tornati in studio, sono le 8.33 in questo momento, come sempre in diretta dai nostri studi per la vostra informazione quotidiana. E l'informazione del mattino, riapriamo questa seconda parte, riprendiamo parlando del dottor Ramilto Stefano De Nozza. Perché? Perché parliamo di un altro pugliese che nella commissione parlamentare di inchiesta antimafia è stato inserito, attualmente è sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Lecce e avrà il ruolo di consulente. Guardate il servizio. Un altro pugliese nella commissione parlamentare di inchiesta antimafia si tratta del dottor Ramilto Stefano De Nozza, attualmente è sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Lecce e avrà il ruolo di consulente. L'incarico è stato firmato dall'onorevole Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e già comunicato al ministro della giustizia. Il noto magistrato riceve così un prestigioso incarico a tempo parziale anche grazie all'esperienza accumulata nella sua lunga carriera. Milton De Nozza, brindisino, è stato sostituto procuratore a Brindisi e poi al DDA di Lecce con competenza sulla criminalità organizzata a Taranto. Indagò sull'omicidio di Melissa Bassi contribuendo alla cattura del killer. Si è occupato di molte inchieste su reati ambientali, pubblica amministrazione e assenteismo alla ASL di Brindisi. Recentemente ha arrestato i due presunti killer di due padellari risolvendo così un caso avvenuto a Brindisi oltre a vent'anni fa. Nel 2023 ha coordinato le indagini relative all'omicidio avvenuto a Manduria, vittima un 21enne Leccese di etnia Rom, assassinato a coltellate e lasciato in un dirupo. Un giallo risolto in pochi giorni con l'arresto di tre persone. E più recentemente nel maggio scorso il dottor Milto Stefano De Nozza ha risolto il caso dell'omicidio Nardelli avvenuto a Taranto in via Cugini. Anche in questo caso assicurate la giustizia i presunti autori materiali e i mandanti, tra cui anche il fratello della vittima. E un altro importante incarico è stato rilasciato al prefetto Maurizio Mascio Pinto, prestigioso incarico per l'ex questore di Brindisi che è stato nominato direttore dell'ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A decorrere proprio dallo scorso 30 ottobre fino alla data del suo collocamento a riposo. L'incarico proposto dal Ministero dell'Interno ha avuto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restiamo in qualche modo in tema perché oggi voglio parlare con voi di un argomento che abbiamo già più volte trattato nelle edizioni del nostro telegiornale e sul quale è opportuno tornare. Non lo farò da sola ma lo faremo insieme a Ruggero D'Amato che è il segretario generale regionale OSAP, l'organizzazione sindacale autonoma della Polizia Penitenziaria che vedo già in collegamento. Parleremo quindi della difficile situazione in cui versano le carceri pugliesi e quella di Taranto in particolare. Buongiorno Ruggero, benvenuto. Buongiorno a lei, dottoressa, a tutti i telespettatori. Allora, intanto grazie per aver accolto il nostro invito. Io ho voluto invitarla perché so che sabato, ho saputo che sabato, ci sarà un incontro, ci sarà un evento importante per voi, per l'OSAP. Ce ne vuole parlare? Noi sabato staremo nuovamente nel penitenziario di Taranto, un istituto, uno degli istituti più difficili, non soltanto dalla Puglia ma a livello nazionale, dove si è arrivato con la popolazione detenuta intorno alle 1000 persone. Adesso siamo oltre 900 persone, ne potrebbe contenere intorno ai 400. Con un personale attualmente intorno alle 270 unità e deve gestire 900-950 persone detenute. È una situazione molto difficile, molto pesante e a nostro parere non è stata presa in seria considerazione sia dal Dipartimento e sia dalla politica. Le ragioni non le conosciamo, però noi stiamo cercando in tutti i modi di trovare un incontro con i vertici dipartimentali e con la politica anche tramite il sottosegretario Del Mastro che è anche la delega alla Polizia Penitenziaria. Noi siamo considerati un sindacato fuori dal coro, però noi abbiamo molte proposte da fare e con tanta umiltà chiediamo alla politica e al Dipartimento di ascoltarci. Allora, Ruggero D'Amato, da quanto tempo lei ha assunto l'incarico di segretario regionale? Sono circa due anni e mezzo. Che cosa è cambiato da quando lei ha assunto l'incarico? Quali sono le fasi che ha visto su questi due anni? Se è cambiato qualcosa effettivamente? Guardi, in due anni sono cambiati quasi quattro capiti del Dipartimento. La situazione purtroppo, non voglio essere sempre logorroido, la situazione va sempre peggiorando perché a nostro parere non ci sono delle iniziative degne di risolvere questi problemi. Le cause possono essere tantissime, noi siamo anche consapevoli che c'è un contingente a livello internazionale e nazionale che non ci sono risorse. Però noi abbiamo anche delle proposte da fare, cosiddette a costo zero. Se c'è la volontà di affrontare i problemi in una maniera civile, seria, senza demagogia, senza puntarci il dito uno con l'altro, noi siamo pronti da domani mattina. Quindi la situazione è solo peggiorata, ma non soltanto per la Polizia Penitenziaria, anche per l'utenza, perché ci sono strutture come quella di Taranto che hanno bisogno immediatamente di essere ristrutturate, perché alle soldi del terzo millennio vedere ancora persone chiusi in una stanza dove c'è umido, non c'è ariazione, non c'è guardi neanche un frigorifero per mettersi una bottiglia d'acqua o per mantenere le terrate alimentari, certamente in un paese civile questo non è ancora accettabile. Allora, su che cosa bisogna intervenire il prima possibile dal punto di vista della struttura? Parliamo della struttura, qual è il problema principale? Il sovraffollamento? Esatto, il sovraffollamento e poi non ci sono dei supporti tecnologici che aiutano la Polizia Penitenziaria con il drammatico fenomeno dell'introduzione di droga e di telefonini, ma soprattutto riportare un carcere a livello umano, perché in un carcere dove potrebbero ospitare 400 persone oggi ce ne sono 950, quindi è inutile fare tanti discorsi, le persone che ci stanno ascoltando lo capiscono che in una stanza dove è previsto una persona ce ne sono tre non è vivibile. Poi, oltretutto, in questa struttura diciamo che c'è un padiglione nuovo, che si potrebbe chiudere un padiglione, ristrutturare e andare avanti, però non c'è la volontà, perché ripeto, noi siamo disponibili da domani mattina, anzi da subito, sederci intorno a un tavolo con tutte le autorità politiche e istituzionali e diamo delle soluzioni. Noi abbiamo fatto un congresso e nessuno è venuto, abbiamo fatto appello anche al Presidente della Repubblica e non ci hanno risposto, quindi anche noi in questo momento ci sentiamo, come dire, orfani dello Stato. Parliamo della carenza di organico, che è un altro fattore che influisce sulle normali attività all'interno dell'Istituto. Per far comprendere alle persone che ci ascoltano, gestire delle persone che vengono ristrette non è come gestire una persona all'esterno, perché noi siamo l'interlocuzione tra i familiari, tra la magistratura, tra la sanità, quindi dove una persona deve gestire 300, 200, 300 persone, non è come gestire 60, 70 persone. Allora, a livello nazionale non abbiamo una carenza di 18 mila uomini, a livello pugliese abbiamo una carenza che va oltre le 1.200, 1.300 persone, su Taranto per avere un minimo di sicurezza e garantire una minima vivibilità ci vorrebbero almeno 130, 140 persone. Ma ci sono stati dei nuovi ingressi ultimamente? Sì, ci sono stati dei nuovi ingressi e ci sono stati delle uscite, perché come lei è pensato, che conosce molto bene il problema e la ringrazio sempre per la sua attenzione, sono arrivati tot persone, altre persone sono state trasferite e entro la primavera del 2024 andranno a domanda altre 12-13 unità. Quindi allo stato attuale non è cambiato nulla, anzi noi in primavera ci troveremo con 12-13 unità in meno ancora dell'attuale. Quindi le prospettate arrivo di personale da parte del sottosegretario che dice quello che gli viene detto dal Dipartimento non risulta vero. Non risulta vero. Allora facciamo un riscontro oggettivo, se non arrivate persone, lo straordinario, il campanello d'allarme che ci dice dove manca personale. Vi informate voi stessi dal carcere, ci sono persone che oggi fanno ancora 18-24 ore di servizio, ne dovrebbe fare sede al contratto. Quindi non voglio essere sempre lo con noi, e la situazione è molto difficile e non è più accettabile. Noi stiamo cercando tutti in modo di... Quindi sovraffollamento, sovraffollamento, carenza di organico e poi c'è questa necessità da parte degli operatori, insomma, di sostenere dei turni di lavoro piuttosto pesanti, faticosi, lunghi. Invece parliamo adesso degli ospiti della struttura. Di cosa hanno bisogno in questo momento? Soprattutto di umanità. Quando lei dice umanità, che cosa intende? L'umanità intende, dottoressa, che se una persona distritta mi fa una richiesta lecita, io devo essere in grado di dirgli sì, no, si fa, non si fa, vediamo, non vediamo. Però io non posso tenere una persona appesa a una risposta che non posso darla perché non mi è data la possibilità di farlo. L'altra umanità è quella di vivere in un ambiente dignitoso. Non dico che devono essere alberghi a 5 stelle, ma almeno devono essere dei posti dove non ci sono muffe, dove non ci sono infiltrazioni d'acqua dal tetto, dove ci sono degli spazi che possono andare, i cosiddetti passeggi, aree verdi. E poi soprattutto, invece di pensare soltanto ed esclusivamente alla costruzione di nuovi istituti, di usare le misure alternative, perché non dico almeno il 40% della popolazione distritta oggi, se gli si dà la possibilità di uscire all'esterno con le misure alternative, accompagnate da un percorso anche lavorativo, si potrebbero recuperare migliaia e migliaia di persone. Perché oggi il carto è diventato un contenitore di carne umana dove le persone purtroppo vanno anche perché non hanno la possibilità fuori di un pasto caldo tutti i giorni. Segretario, questa carenza di organico e quindi queste carenze strutturali, lei pensa che influiscano anche proprio nel rapporto tra l'ospite, quindi tra il detenuto e l'operatore invece? Perché tante volte si è sentito parlare, si verificano costantemente degli episodi di aggressione, di violenza, da cosa pensa che scaturiscano questi episodi, queste vicende? Dottoressa, dobbiamo prescindere, ci sono degli episodi che vengono creati da una parte di detenuti che creano disordine per poter fare dei traffici in legge, come abbiamo detto sempre, piazze di spaccio e tutto il resto, aggregazioni criminali. Ma il 70% delle aggressioni che oggi avvengono in carcere sono proprio dovute da quel rapporto personale quasi forzato tra il poliziotto e il detenuto, dove non ci sono risposte, dove ci sono richieste che non si possono dare risposte, c'è quella situazione. È normale, guardi, lei faccia un... Quindi si crea un clima di tensione. Attrito, attrito, sì. Si crea attrito. Se io chiedo assistente, sovrintendente, ho un mal di testa, mi può far chiamare da medico, me lo chiede la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, la quinta volta, io non riesco a mandare perché non c'è personale, perché c'è carenza di medici, arriva ad un certo punto quello inizia a fare, tra virgolette, casino per essere ascoltato. E poi in quel casino, in quello dialogo, si arriva che una persona può anche aggredire. Insomma, si verificano quei fatti che tante volte noi abbiamo purtroppo anche dovuto documentare. Allora, prima di lasciarla, segretario, vorrei ricordare che avete avuto recentemente un incontro con il prefetto di Taranto e pare che l'incontro abbia avuto un esito positivo. Guardi, io in 31 anni di carriera molto incontro con i prefetti, questo prefetto che ho incontrato è stata una persona che ha ascoltato tutti e ha dato delle risposte mirate e riferite alla sua competenza, perché io non posso andare a parlare con il prefetto della Margazza d'Organico. Il prefetto, diciamo, viene investito per l'ordine della sicurezza pubblica e il carcere fa anche l'ordine di sicurezza pubblica. Secondo me farà tutti i passi necessari tramite la politica che rirappresenta con il governo nella provincia e tramite il dipartimento e sono molto fiducioso perché ho visto una persona competente e soprattutto che ascolta chi ha l'interlocutore. Allora, proprio negli ultimi secondi, sabato sarete nuovamente a Taranto? Sì, sabato prima mattinata per le 9 siamo lì a Taranto. Quindi per visionare, per ispezionare la struttura? No, perché abbiamo avuto delle segnalazioni e stiamo andando ad appurare perché noi non aggiamo di impulso. Va bene. Allora, nella speranza che la situazione, insomma, migliori, io la ringrazio per aver accolto il nostro invito, grazie per essere stato con noi e ovviamente un buon lavoro va a lei e a tutti i rappresentanti, tutti in realtà, tutte le sigle sindacali che rappresentano la Polizia Penitenziaria, a tutti gli operatori, tutti gli agenti di Polizia Penitenziaria esposti ogni giorno a dei, insomma, fattori, dei rischi molto importanti. Grazie per essere stato con noi. Buon proseguimento di giornata. Ringrazio a lei e guardi, vi faccia passare questo oggi e la giornata dei defunti e nelle scorse ore diciamo è venuta a mancare la dottoressa in Sardegna che ebbe l'incidente con il collega che anche lui è morto. Ricordo a tutte le persone defunte e un ricordo particolare alla dottoressa e al collega che è venuta a mancare. Grazie dottoressa. Un abbraccio a tutti gli agenti di Polizia Penitenziaria. E allora, adesso cambiamo decisamente argomento. Chiederei alla regia di andare a Massafra per parlare di una vicenda di cui si parla tanto di cui si discute tanto in questi giorni che ha documentato per noi il nostro Ottavio Cristofaro. Guardate questo servizio che è uno speciale un approfondimento su quello che sta accadendo a Massafra. Arriva. Sabato sera scorso verso le nove e mezzo sarà accaduto un ragazzino e la sua mamma stavano camminando per strada sono passati da vicino a questa madonnina a un certo punto il ragazzo per primo ha notato che uscivano delle lacrime dall'occhio destro della Madonna. La mamma si è avvicinato poi si è avvicinato ancora qualche d'uno una persona mi ha detto lui ha confermato che aveva portato in giro come ogni sera il cane e ha visto questo lui si è avvicinato ha visto le lacrime poi più tardi si sono avvicinate altre persone anche uno che frequenta la parrocchia poi le lacrime avevano raggiunto il collo della Madonna allora lui così di sua iniziativa su un fazzoletto di carta ha raccolto queste lacrime che adesso vorremmo analizzare per chi vuole la gente competente e poi fino a una certa ora così questa ha lacrimato ci sono anche delle foto e niente poi ognuno dice la sua ognuno è libero di interpretare come crede abbiamo visto c'è tanti dubbi se l'umidità ma proprio quella sera l'umidità non ce n'era abbiamo visto sotto la capanna casomai qualcuno ha messo qualcosa dell'acqua che poteva così cadendo ha fatto l'ipotesi qualcuno che ha fatto una puntura nell'occhio ma è gesso probabilmente è materiale molto solido e così poi è accorsa tanta gente e niente siamo in attesa di esami stiamo controllando eventuali telecamere si stanno accertando anche i carabinieri per ecco comprendere che cosa è successo poi ognuno dà la sua interpretazione forse un segno divino o forse solo qualche goccia di acqua caduta accidentalmente sabato sera il centro di Massafra si è trasformato in un luogo di pellegrinaggio di gente cittadini anche solo curiosi di sapere quello che era venuto davanti al sagrato della parrocchia del sacro cuore di Gesù lì in una sorta di giardinetto creato ad hoc alcuni anni fa è posizionata da tempo una statua della Madonna presenza importante in ogni luogo di culto religioso cristiano cattolico questa statua pare che abbia fatto scendere dal suo viso alcune gocce una sorta di pianto immagine evangelica che ci riporta indubbiamente a scene della vita di Gesù il primo ad accorgersi di queste gocce è stato un bambino che passeggiava con la sua mamma davanti alla chiesa del sacro cuore soffermandosi ai piedi della statua della Madonna ha notato del liquido trasparente all'altezza dell'occhio destro dello stesso simulacro la donna incuriosita si è avvicinata il più possibile cercando di capire meglio cosa stesse accadendo di lì a poco è giunta altra gente fermatasi a osservare il fenomeno un uomo si è spinto oltre la recinzione della euala antistante per asciugare con un fazzoletto il volto della statua in questo fazzoletto che lei custodisce insomma sarà esaminato dalle autorità competenti è certo credo di sì l'abbiamo a disposizione quando ce lo chiedono ieri sera sono venuti i carabinieri a fare domande a indagare eccetera poi non hanno avuto modo forse certamente la scientifica se il caso va avanti analizzerà queste queste lacrime è una cosa che lei ha visto con i suoi occhi sì sì posso dare anche qualche foto poi si è libero di come dire interpretare perché la gente poi ormai con i telefonini hanno ripreso un po' questo momento da parte sua però c'è un invito alla prudenza dopo aver ascoltato insomma anche il parere l'opinione di sua eccellenza l'arcivescovo sì Monsignor Sabino è il vescovo nostro di Casteraneta e certo perché se non abbiamo le notizie sicure certe come possiamo fare delle affermazioni siamo tutti un po' tra lo stupito e l'increduro anche e siamo in attesa boh non in questi giorni sicuramente la sua comunità parrocchiale è stata meta di pellegrinaggio da parte di curiosi e da parte di fedeli sì sì numerosi la sera il giorno di domenica ieri oggi non so è così perché abbiamo sentito qualche volta queste lacrime poi c'è un po' di prudenza perché dicevano i carabinieri a volte per attirare l'attenzione alcuni hanno usato degli stratagemmi non so marchi ingegni per così attirare l'attenzione per cui non sappiamo se qualcuno prima ha fatto delle cose non stiamo facendo vedendo analizzare dal negozio da perché lì proprio la telecamera all'interno non l'abbiamo messa non ci abbiamo fatto mai caso per vedere se ecco qualcuno ha manomesso nei giorni precedenti ha fatto qualcosa per poi far accadere tutto questo e ringraziamo Ottavio Cristofaro il nostro collega per questo approfondimento ovviamente continueremo a seguire questa vicenda e vi terremo aggiornati intanto abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione termina qui questo approfondimento della telegiornale Mattutino di Antenna Sud vi ricordo che tutti i nostri servizi le news tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito www.antennasud.com un sito che potrete consultare sempre durante il giorno troverete tutti i nostri servizi vi ricordo l'appuntamento più tardi con Mattina Sud da non perdere a tutti voi buona giornata rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia e Basilicata di Puglia e Basilicata grazie a tutti